Ehi, non vorrei mica sparare una gemma, non è vero? Sì, sulla gemma, perché? Ascolta, tu non devi per forza essere il cattivo, Jack. Un'altra parola e spara al tuo leone. Non puoi uccidere un leone. Sì che posso uccidere un leone, guarda, guardami, questo non sei tu. Oh, Steven. Checca.